Bella a tutti da Porkmoz, eccoci qua in questo nuovo parkourito, questo parkour è stato creato da Erzino O I'm Chris, non lo so, o io pure regà Guardate che spettacolo Volevo mettere veicoli in stock ma non ci ho fatto proprio caso regà Allora, mi dispiace se qualche suino non c'ha la macchinetta, ma Zerasol sarà contento perché voleva la macchinetta modificata regà Ma questa è HSV regà? Oh mio dio, spero di no eh Si può spingere, possiamo fare il panico ovviamente Dove sta passando Darkness? Anti-kick primero, ma che bella notizia regà, lo sapete eh Ehi sì, vieni vieni anti-kick Oh, meno male che spazio sul salto, pure lui ce l'ha modificata sì Ah lui che ha tolta la cappotta regà Hola Mi sa che HSV Oh 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 zitta se citta Oh regà se citta tutto qua E non mi dica che se citta pure qua sui Ma se citta tutto E la miseria Regà guardo Emgret se citta Vieni qua sotto emgret No anti-kick Se citta se citta Quando faccio sta trombetta se citta No no se citta per di qua Vabbè E' uguale regà E ora dove bisogna andare? Di qua Ok Vedete regà nonostante senza regole Mi possono arrivare spinte Ma io L'aiuto lo dobbiamo dare sempre regà Credo che siamo andati un po' troppo lontani eh Ah le spavano pure senza cappotta Ok Drift Drift Emgret Drift No ma no Ok Però non sarò gentile Emgret Te lo dico Non sarò gentile Oh Oh no Check 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 Pure te hai saltato il check Tic Ok si L'ha saltato pure lui Andiamo Andiamo Che sta combinando Emgret Teppure lui vuole stare nel vivo della chiarerita eh Sta riscaldando le gomme sì Andiamo Andiamo Allora Testiamo La gentilezza di Emgret Se mi viene addosso eh No le collisioni Come no le collisioni? Questa non è solo no collisioni Ma è Panico Panico più totale Che onore Aspetta sui Spero che ricapiterà certo sui Che ricapiterà Ma io dove sto andando? Aspettate regà Sta a cascare la cuffietta Pasqui Che mi devo indicare dall'altra carerita Pasqui Vieni qua No Pasqui Non mi devi cascare da solo però Perché io volevo trollarti Vieni Emgret Dove fuggi? Dove fuggi Emgret Dove fuggi? Dove fuggi? Dove fuggi? Emgret Dove fuggi? Dove fuggi? Aiuto Piano qui Che pericoloso Sto a fare i danni I danni I danni perché Sto andando veloce Dario Sergio Pure Dario Sergio volevo Dario spostati Che pericoloso Andare piano Antikic Non te permette Non te permettere Antikic Che qui La primera Di Emgret È svanita Dove sta? Dove si trova Il signorino? Aiuto Come primo Dove sta? Ma Ah si è trollato Via 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 Che c'è Antikic Via 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 Che c'è Antikic Eh però L'ho andato così veloce Che Vediamo È caduto Antikic Ora buttare giù Raga Credo proprio Di sia Questo Verrà un parkurito Tra le casette Cioè lo chiamerei così Su cavoli mia Mamma mia La freccia indica Di qua Puoi perdere di qua Sì Ok andiamo Aiuto Suonato il klaxon Dall'ansia No La freccia indica Dove? Ah Qua 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 Qui 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 Ok Aia Ah Ha parcurito Con le macchine Vedete che spettacolo Ok Andiamo Oh Oh Regà Oh Ci siamo Che cos'è? Ah Rimbalzo Vai Ci siamo Regà Ci siamo E caschiamo giù Bene così Va più che bene Regà Dove sta In carretta Sta arrivando Oh qui sta arrivando Regà Il signorino Pasqui Aiuto 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 Regà Non lo so se HSV Questa Tira certe sgasate Allucinanti Però Non sono Completamente Sicuro Di tutto ciò Aiaiaiaiaiai Ok Che poi veniamo pure da una gara da drift Mi viene voglia di driftare Perfetto Oh che è sto freno Alla Ok Di qua Comunque sono migliorati i creatori Dei parkour nelle casette Una volta erano un po' più Strani Non so come definirli Però questo è proprio scorrevole Adrenalinico Perché può andare a 2.000 In certe parti Poi è pericoloso in altre parti E tipo qua bisogna andare piano Ovviamente C'è che lo prende Sì E' finito E' finito Il parkourito Regaliamo questa Primera posizione Al secondo Che è Pasqui Pasqui davanti Volevo trollare Ma alla fine Ti regalo questa bella Tua Tua Pasqui Non fare complimenti Prendite sta primera No è tua Non mi regalare Primera Che già ho Ok Vai vai Vedete la primera Pasqui Guarda che se la frega Dario e Sergio Dario e Sergio Appena sententore Primera Subito Sava a fregare Ci mette Due secondi Te lo garantisco Ok Dario Da Roma Dove si trova Vai Pasqui Sì 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 Vai 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 Pasqui Tua 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 Ah sta mettendo la cappotta Pasqui Hai capito Vai Pasqui Per te questa primera E' questa prima Passiamo La prossima Carerita Non ti voglio Buttar giù Vai 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 Non mi frenare Davanti Frontflip Oh Li Passiamo alla prossima Caretta Ok Li Nuova Chiara Gara Con Monster Track Allora E' una Gara Giri Mio Dio Ma che c'è la Tempesta Non credo Che ha impostato Così Il creatore è una gara giri però non c'è l'aiuto giocatore in coda quindi se c'è trolla non possiamo recuperare come la carerita di ieri l'altro ieri non sono uscita sto video andiamo vediamo un po quello che succede già c'è la tempesta raga vedo che è abbastanza pericolosa la situation Dario dove sta andando? sta andando in alto mare grazie ah non qua c'è il turbo sui eeeh ok rispondiamo allora prevedo un disastro piccolo disastro che accadrà tanti hic che si è spento il monster dimmi che ci arrivi perlomeno non ci voglio credere disastri su di ormai ormai possiamo dire un lieve addio l'aiuto giocatore in coda c'è c'è l'aiuto mare in coda ok andiamo andiamo ventesimi iniziamo a vedere quale sarà la nostra posizione in questo mare pericoloso sui no no allora c'avamo una speranza di due sorpassi ed è già svanita questa speranza raga anti kick ultimo e io penultimo raga diciamo che con l'acqua non vado proprio d'accordo io l'acqua su gta dai anti kick due anti kick raga io veramente non so cosa dire aiutatemi di zero solto esploso ancora ventesimi dicevo diciannovesimi wow 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 pure in questa gara raga ogni piccola posizione è un qualcosa di speciale perché pericoloso recuperare cioè difficile mamma mia entro i dubbi piove giusto gta ovviamente mi sembra più che ovvio che deve piovere dentro i dubbi da uguale se andiamo sopra o sotto vero rimaniamo qua sopra va che abbiamo un baccaro diciassettesimi o altre posizioni ok qualcosa qui si può recuperare già si 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 può che ci che è successo qui tutto ok parkuritos ti prego se faccio questa la prima era bello magari poterlo fare la prima allora però cosa positiva che i primi che fanno il giro completo qui si trolleranno e che incontrano un sacco di gente teoricamente no no sui sto andando piano a posto sui piano sui ok veloce 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 baccaro che poteva essere mi poteva spingere undicesimi eravamo ventesimi vai vai no antichic ci ha lasciato raga perché questa bella carerita impossibile con l'acqua qua ci vuole una bella miniatura con un monster tra che tanto acqua sui vai 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 quasi spegnerà di sicuro a si è spento infatti allora c'è altra gente lì a dario secondo me si sta divertendo in tutte queste onde giusto dario ok ottavari a settima che mi sta da dio ma che mi sta da dire guarda pura sirena andiamo andiamo io ho messo due giri ok quasi finito il primo giro rusmoz primero dei primeri nella gara con tempesta ok cori 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 ballo veloce sui ok vai 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 l'acqua è buona onda gigante sta per arrivare ma dobbiamo girare qual è il percorso che non lo capisco più buono un po' non vedo dalla minimappa che ci abbiamo pure una sesta vai 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 oh stavolta ha saltato di più strano ok ci sono schi primero stanno a fare una bella battaglia là davanti tutte queste belle onde ci dice darkness darkness ah le onde ovviamente non sono sincronizzate eh ti prego prendi sto check ok tu vai da quella parte vai da questa parte sui c'è pure il quinto là anzi no il quarto scusate oh mio dio andiamo andiamo no il quinto era quello che l'avevamo già superato darkness no si è spento oh che peccato raga ma che peccato bastante rispegne ok sicuro saranno trollati in quella parte dove c'è il coso raga vedo un po' le posizioni che si scombinano in una maniera allucinante raga ma proprio in una maniera assurda doppio boost triplo boost e oh le raga andiamo corri 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 c'è qualcuno lì no c'è sì su due sono esattamente due scusate no t'ho pure aiutato ci voglio credere no eh facciamo tutto raga facciamo tutto facciamo i cavolati andiamo tranquilli tanto durante il tragitto forse un'altra piccola posizione la riusciremo a guadagnare ok ok evitiamo di perdere tempo andiamo sereni andiamo questo bel ciacca ok corri 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 ballo veloce guarda chi era davanti mi sa sempre darkness sì 42 secondi da aurus raga cioè ci stanno due posizioni forse si è spento il veicolo a lui si spegnerà pure a me sicuro respawniamo già eh qui la vedo proprio dura perché c'è un botto d'acqua raga veramente tanta quanti tanta gente c'è oh allora prendi almeno sto check così ci rilassiamo ok complimenti ad aurus lo aiuto vediamo vediamo pauk messi no ti prego c'è niente eh nessun'altra piccola posizione per il suinos raga una oh sì sì no questo è doppiato sì mi sa eh sì è ultimo non c'è raga pensavo che fosse una posizione raga mamma mia che tragedia eh veramente una tragedia raga una tragedia assoluta corri 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 oh eh andiamoci a prendere una piccola sesta di legno grazie pauk messi sesta l'ho chiamata grazie grazie pauk sesta di legno va bene così comunque sia se vi sono piaciute queste due gare lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti